Purtroppo, come già durante la conferenza di Berlino, perché arrivamo alla conferenza che anche la sera prima, il giorno prima e durante la conferenza c'erano chiari segnali che gli attori che ormai sono sul terreno e che hanno deciso di abbracciare l'opzione militare stanno continuando ovviamente ciascuno a coltivare, a rafforzare il proprio fronte militare. Perché questa per noi non è una strada, non porta a nulla. Se si vuole che in Libia la popolazione veda la pace, veda la prosperità e il benessere nei prossimi decenni e che si allontani sempre più quindi questo traguardo, non prima di qualche decennio si continua a fare così, l'Italia ha un atteggiamento responsabile. L'Italia ha l'atteggiamento di chi si, conoscendo bene il dossier e anche abbracciando dei principi che noi sposiamo sempre, ritiene che l'unica soluzione sia quella politica. E ci batteremo con tutti e quindi voglio lanciare adesso anche un appello, come tornerò a fare sentendo tutti quanti i protagonisti, anche gli attori stranieri. Noi chiediamo a tutti di astenersi al continuare a far arrivare armi, a far arrivare ad acquisire ulteriori militari. Non è quella la soluzione, non è un confronto militare che potrà portare, anche per le caratteristiche tipiche di quello scenario, non c'è la possibilità con un confronto di militare di sopraffare l'altro fronte, il fronte avverso. Lavoriamo per una soluzione politica pacifica.